Buonasera, ben ritrovati al consorzio appuntamento con la voce dell'istituzione, è il piacere di averne in studio il presidente del consorzio dei comuni del bacino in perifero del Piave, il consorzio BIM Piave, Umberto Soccarchi. Buonasera, grazie dell'invito a voi. Abbiamo tanti argomenti da trattare anche perché il consorzio BIM è sempre al centro di molte manovre amministrative, ma c'è stato un passaggio molto importante che da un punto di vista amministrativo è obbligatorio fare ed è il bilancio consuntivo, vale a dire verificare ciò che si è fatto, se quello che si era previsto è stato fatto nel 2019. Certo, abbiamo fatto un'assemblea qualche giorno fa, i colleghi sindaci hanno votato all'unanimità questo bilancio che è stato presentato e devo dire che è un bilancio che a seguito anche degli accordi fatti con l'Enel ci mette nella condizione di poter effettivamente avere a disposizione una certa cifra importante. Gran parte di questa cifra è su impegni pluriennali che il consorzio ha fatto nel tempo a favore dei propri comuni, ma comunque è una cifra significativa. Noi abbiamo messo a disposizione dei nostri comuni qualcosa come 6-7 milioni distribuiti in varie cose come investimenti, quindi dei fondi a disposizione dei comuni per fare investimenti sul proprio territorio, piuttosto che aiuti sulle spese correnti che i comuni fanno, vedi il gas o altre iniziative di questa natura che sono importanti, oltre a una parte significativa di interventi che il consorzio fa a favore dei comuni per quanto riguarda il mondo informatico e quindi la gestione degli applicativi, la connettività e quelle cose. Abbiamo visto tra l'altro quanti limiti ha ancora la nostra provincia per quanto riguarda la connettività e la banda ultralarga, al di là delle larghe parole che ci dicono che stiamo crescendo, che tutta Italia sarà, però in realtà i problemi ci sono, sono ancora importanti. L'investimento fatto dallo Stato per portare la fibra in ogni casa o perlomeno in ogni sede pubblica degli enti locali, purtroppo è ancora di là da venire. E rispetto all'anno precedente, il 2018, avete avuto maggiore disponibilità finanziaria? Abbiamo avuto qualche crescita, in realtà legata più che altro al riconoscimento della legge che è comunque del 2012 relativa ai prelievi d'acqua fatti sotto i 500 metri sul livello del mare e che questo ci ha consentito di ripristinare una serie di attività e di investimenti che avevamo momentaneamente sospeso in attesa di una certezza delle entrate. Mi è stato così cortese di portarmi una sintesi di quello che è il bilancio consuntivo, la voce più importante sono gli investimenti. Fa riferimento al plafond del 2018 e qua sono quasi 3 milioni, che cosa si intende? Beh, in realtà si tratta di un fondo aggiuntivo, un paio di fondi aggiuntivi che abbiamo riaperto nei confronti dei comuni che interessano due cose, una cifra di 75 mila euro per ogni comune, quindi per i 60 comuni appartenenti al consorzio che sono a disposizione dei comuni e che possono spendere in confinanziamento o non, o anche esclusivamente per quello, per fare degli investimenti all'interno del proprio territorio. E un altro è una ripresa di un fondo precedente di 51 mila euro per ogni comune, questi sì solo in confinanziamento su altre iniziative, quindi hanno già altri contributi o altre cose, che era stato sospeso a seguito delle variazioni delle modalità economiche e finanziarie di gestione. Adesso è stato possibile ripristinarlo e quindi è un'ulteriore cifra che viene a me. Gran parte di quei 3 milioni di cui mi parlava sono questi. Poi c'è sempre una voce che è aperta, ma ormai da anni, che riguarda il contenimento delle spese energetiche. Molti soldi vengono investiti direttamente dall'amministrazione, ma voi sollecitate, andate in aiuto. Sì, noi in realtà a seguito, questo è ancora un proseguo di quelli che sono stati gli investimenti fatti nel tempo da parte del Consorzio per lo sviluppo del metano nella nostra area, che è stato per i comuni metanizzati, adesso c'è questo contributo aggiuntivo che viene dato per un tot per metro cubo, dei consumi, ovviamente consumi sociali, pubblici del comune, quindi le scuole piuttosto che palestre o cose simili. Mentre per i comuni che non sono metanizzati c'è stato un supporto per attività di interventi di altra natura, come potrebbero essere le biomasse o cose di questo genere qua, oppure sono stati fatti a suo tempo, sono stati distribuiti dei contributi a parziale sostegno delle attività di questi comuni. Un'altra voce è quella degli aiuti economici oppure dei servizi associati con le unioni montane, che sono anche questo un elemento importante nella nostra provincia, tutte le critiche mosse a suo tempo non riguardavano certo le nostre unioni montane. Ma diciamo che le unioni montane stanno vivendo un momento un po' difficile a mio avviso, in quanto sono state riviste anche dal punto di vista normativo per essere più vicini a quelle che sono le unioni dei comuni a livello nazionale, perché sapete che a livello nazionale le comunità montane non esistono più, quindi ci sono solo delle regioni che le hanno tenute, nel nostro caso la comunità montane sono diventate unioni montane, purtroppo però i finanziamenti che arrivavano dallo Stato che non le considera più e quindi non c'è più niente. Dalla Regione che però dà dei contributi minimali, diciamo sono un paio di milioni per le 19 unioni montane che ci sono nel Veneto, sono in grosse difficoltà e quindi il Consorzio da parecchi anni sta dando dei contributi proporzionali alla dimensione dell'unione montana, al numero dei comuni che vi partecipano e servono per la gestione ordinaria delle unioni montane, perché inizialmente era stato previsto che questo contributo fosse esclusivamente in termini di investimenti, in realtà si è dimostrato che serviva per pagare le persone che ci lavorano dentro. Se non le chiedo un giudizio politico, perché peraltro so che lei è molto parco riguardo a questo argomento, ma si è sempre parlato di unione dei servizi e le unioni montane questo fanno, ma se si priva il territorio di questa possibilità… Ci sono delle unioni montane che hanno sviluppato questo tema e che stanno facendo dei servizi importanti in maniera unificata. E che stanno facendo risparmiare anche… E che chiaramente portano dei benefici laddove però c'è la convinzione da parte dei comuni e delle amministrazioni che le rappresentano di seguire questo percorso. Laddove la legge invece non è così ferma e così precisa, è difficile ottenere dei risultati facendo questa aggregazione di servizi e di funzioni all'interno dell'unione montana. Faccio un assunto, in provincia di Belluno non ci sono mai stati tanti soldi come in questo periodo per svariati motivi, fondi di confine, fondoletta, le Olimpia e tutto quello che ci… Però purtroppo non si può utilizzare per i servizi. Direi che è essenziale. Invece bisogna… A mio avviso, se veramente vogliamo aiutare la gente della nostra provincia a rimanere qua, noi dobbiamo implementare i servizi. Faccio un esempio, che è attuale ma di cui non voglio incolpare nessuno perché lo possiamo fare col Covid o quant'altro. Dolomiti Bus, se noi non diamo la possibilità a tutto il nostro territorio di poter avere un servizio pubblico che ti porti a fare una visita, che ti porti in un negozio che non hai nelle vicinanze o cose di questo genere qua, come si può pensare che la gente resti lì? È chiaro che però adesso gran parte delle risorse continuative che stanno arrivando, vedi i soldi dei comuni confinanti con il Trentino, adesso per legge in questo momento devono ancora essere impiegati in investimenti, in infrastrutture. C'è il discorso dell'area vasta, va ampliato, va reso più facile in termini di gestione e anche più puntuale, ma soprattutto a mio avviso quei soldi come altri soldi devono essere investiti su dei servizi, altrimenti la gente scappa. Alinea Fatto ha citato quello che riguarda il trasporto pubblico, ma ci sono le scuole? Ci sono decine di esempi che si possono portare. Il trasporto pubblico per esempio abbiamo visto che siamo riusciti a mettere insieme i comuni confinanti, la provincia e il consorzio che è andato a coprire quello che i comuni confinanti non riuscivano a coprire, vale a dire tutti i cittadini, tutti gli studenti fuori dai comuni di primo o di secondo livello, attraverso il consorzio siamo riusciti a farlo, con qualche alchimia facciamo un servizio su spese correnti perché questo è l'abbonamento degli studenti, però è il limite di quella che è la legge in questo momento qua, invece dovrebbe essere essenziale, ma pensiamo alle poste, pensiamo a tantissimi servizi. E tutto questo risulta ancora più strano perché ci sarebbe una tendenza, una filosofia a livello nazionale che si chiama Family Audit che spingerebbe le amministrazioni ad essere sempre più vicine alla popolazione. Sì, grazie al contributo di un ex assessore del Comune di Feltre che lavora in provincia di Tento dove era stata sviluppata questa metodologia, abbiamo partecipato a un concorso, a un bando emesso a livello nazionale, siamo stati bravi a vincere questo bando, sono 700 mila euro a disposizione e cosa servono questi 700 mila euro? Servono per indirizzare le aziende presenti sul nostro territorio a seguire certi percorsi e certe metodologie di rapporto con i propri dipendenti che aiutino la famiglia e che quindi magari sviluppino metodologie di rapporto con il dipendente tipo il lavoro a distanza, piuttosto orari particolari, piuttosto il part time, una serie di regole e di metodologie che vanno nella direzione di aiutare le famiglie. C'è un altro capitolo molto importante che riguarda la videosorveglianza, purtroppo anche in questi giorni siamo venuti a conoscenza di situazioni difficili di ordine pubblico ma anche di furti. Stiamo parlando da qualche anno, siamo quasi alla fine di questo progetto. Sì, infatti il progetto è effettivamente nella fase esecutiva, veramente a giorni e a settimane mi pare che sia metà luglio o massimo alla fine di luglio devono essere finite le attività di natura edile e quindi la predisposizione degli attacchi e quant'altro. Successivamente partirà l'installazione vera e propria delle telecamere e la connettività di queste telecamere con la centralizzazione presso il CST del Consorzio per raccogliere le informazioni e quindi leggere queste targhe. Credo che sicuramente per questo ottuno avremo a disposizione un servizio che a mio avviso ha due valenze importanti, una di carattere di sicurezza e quello sarà compito dei carabinieri piuttosto che della polizia o di quant'altro, ma anche di una raccolta di dati che non sono personalizzati perché tanto c'è solo il numero di targa, ma che in realtà sono significativi dei flussi, dei percorsi e lo vediamo in queste settimane, in questi fini settimana quanto sia importante conoscere i flussi in modo eventualmente di intervenire in maniera puntuale sui punti critici che ci sono e sono tantissimi della nostra provincia. Quante sono le telecamere se lo ricorda? Sono 36 credo, 36 e 37 con il bando che è stato fatto, abbiamo recuperato anche un po' di risorse e probabilmente aggiungeremo altre 3-4 postazioni. E tutto questo nelle zone di entrata e uscita dalla provincia? Praticamente dovrebbe essere coperto tutto il perimetro della provincia, tutte le possibilità di accesso con le autovetture in provincia sia in entrata che in uscita naturalmente. Senta, proprio in questi giorni si legge che il consorzio BIM parteciperà le spese legali di quei 42 comuni che si sono posti nella gara di assegnazione della rete del gas. Sì, la gara del gas se ne ha discusso e parlato molto, ci sono tante considerazioni però il direttivo, il consorzio ma poi anche l'assemblea perché ne abbiamo parlato in occasione dell'ultima assemblea, il consorzio ha deciso di intervenire a nome dei propri soci e quindi di quei 40 comuni che hanno chiesto di intervenire su questa azione. Ma anche per difendere la propria proprietà in quanto il consorzio ha circa il 10% di BIM infrastrutture e quindi visto che si parla di circa 15 milioni di delta fra le due ipotesi che sono in discussione vuol dire un milione e mezzo in meno a disposizione del consorzio BIM e quindi abbiamo valutato che sia opportuno intervenire. Poi anche per chiarezza, poi sarà il giudice a decidere chi ha ragione e chi ha torto, non aspetta sicuramente a noi decidere questo, però fare tutto il possibile per poter avere la disponibilità di quelle risorse, se era un nostro diritto, credo che sia il minimo che si possa fare. Lei sta operando in proroga del suo mandato perché quando ci sono le elezioni generalmente c'è il rinnovo del direttivo, ci sono state quelle del 2019 che erano quelle che generavano, perché diciamo che il rinnovo del direttivo e del suo presidente sono conseguenza del rinnovo di oltre il 50% delle amministrazioni locali. Questo è avvenuto con le votazioni dell'anno scorso, in realtà di solito ci vogliono sempre quei 6, 7, 8 mesi per fare l'assemblea, nominare le persone, trovare l'accordo per farlo. Quest'anno si è aggiunto, visto che questa scadenza di solito è a febbraio-marzo dell'anno successivo alle votazioni, si è aggiunto il Covid che ha creato dei problemi, qualche difficoltà nel rinnovo del Consiglio provinciale che stanno ancora discutendo su come agire e quindi siamo ancora là. Abbiamo rinnovato parte del nostro direttivo perché le vallate Cadorine e Agordine erano prive di rappresentanti e non mi sembrava una cosa possibile e quindi ho chiesto attraverso una riunione dell'assemblea delle singole vallate di nominarmi i nominativi, sono stati fatti, adesso aspettiamo il rinnovo della BAF, quindi della vallata bellunese, Belluno, Alpago e Feltrino e che propongano il nome sostitutivo per quanto riguarda la figura del Presidente. A maggio ci sarebbero dovute essere le elezioni comunali, sono state spostate a settembre a questo punto? C'è già qualcuno che dice che ormai aspettiamo anche le prossime votazioni, che così vediamo cosa succede. In realtà i comuni interessati sono veramente pochi, mi pare 5 nella provincia di Belluno, nella tornata che dovrebbe avvenire a settembre e così. Però ne approfitto, visto che probabilmente questo è il mio ultimo presenza come Presidente del Consorzio per ringraziare il direttivo... Sì, però questo penso veramente che possa essere l'ultimo, volevo ringraziare il direttivo precedente che mi ha aiutato e che mi ha supportato, volevo ringraziare i personali, le tre persone, perché noi gestiamo tutta questa cosa qua con tre persone all'interno come personale, una segreteria, un segretario direttore responsabile e una ragioneria, quindi devo veramente dire bravi a loro perché non è facile gestire una realtà come questa in così poche persone. E poi auguro a parte del nuovo direttivo di poter continuare su quest'opera importante e soprattutto invito i colleghi sindaci a tenere presente che esiste il Consorzio che è opportuno esserci e che su certe iniziative, vedi il mondo dell'informatica e dell'innovazione dovrebbero essere un po' più presenti perché siamo veramente ancora alla preistoria per quanto riguarda la provincia di Belluno. E cogliere le occasioni che anche in malo modo la vita offre come il Covid. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Umberto Soccal che è il Presidente del Consorzio del Bacino in Berifero del Piave, Consorzio BIM per tutti noi in modo molto sintetico. Lo ringrazio anch'io per la disponibilità che ha sempre dimostrato. Buon lavoro. Grazie e grazie anche a tutti voi. Grazie per la vostra attenzione e buona serata. Grazie a tutti.